Onorevoli colleghi, potremmo dire alla presenza del Ministro e del Sottosegretario che ha avuto la bella intuizione simbolica di aprire per un giorno, il giorno della chiusura, le scuole per restituire dignità agli studenti e al Governo. Potremmo dire che non va bene che un Governo sia così inadeguato a governare rispetto a decisioni fondamentali che riguardano la libertà dei cittadini, sulla quale da ogni parte del mondo è intervenuta una serie di personalità che hanno indicato, a partire da Savino Cassese fino a Vargasliosa, come ho ripetutamente detto, qualcosa che dà il senso che in Italia soprattutto è mancato il Governo, che non vuol dire il Comitato Tecnico Scientifico. Ogni volta che ho ascoltato il Primo Ministro o il Ministro dei Medi Culturali ho sentito il Comitato Tecnico Scientifico. Ma chi sono i membri di questo Comitato? E possono essere più autorevoli di alcuni altri scienziati che hanno detto cose molto precise. Uno solo, io ne ho sentito in questi mesi, che ha lavorato in terapia intensiva e che due giorni fa ha detto una cosa molto precisa, mi riferisco ad Alberto Zangrillo, creando uno scandalo inesistente e su cui non mi sembra che tempestivamente il Governo abbia dato seguito per dire che il coronavirus è estinto. È un pazzo e gli altri sono savi e hanno dato misura di una saggezza che si è misurata in termini di scelte sbagliate fino a quella contraddittoria di dire nei giorni scorsi che teniamo ancora chiusa la Lombardia. Allora anche il Governo sapeva che la Lombardia aveva un problema più grave e che occorreva non dare le stesse misure a tutte le regioni, anche quelle dove non c'è segnale di gravità ma di semplice influenza per il morbo. Il tema è un tema importante. Cosa fa un Governo? Un Governo valuta e decide. Non è succubo una volta dell'uno, una volta dell'altro. E quando uno di questi, che io trovo quello più pertinente, dice una cosa il 30 di maggio, sarebbe opportuno che non fossimo ancora qua con la finzione delle mascherine, con i riti della paura, con l'incubo, con tutto quello che porta per esempio a non seguire la proposta dell'onorevole Ascani o che porta alla finzione di un esame di maturità che peraltro vorrà dire potremo anche farlo per posta perché sarà difficile bocciarne uno. Perché se dovrà essere una vittima? È un esame pro forma? O verrà bocciato sulla base di quello che non sa rispetto a una prova orale sia pure interessante, fatta solo con membri interni e tutto quello che abbiamo letto che in realtà non può discriminare uno che magari è stato per due mesi in condizioni di difficoltà. Perché l'insegnamento, quello universitario e ancor più quello primario nelle scuole richiede la presenza di un docente che abbia coraggio, passione e verità. Tutto il resto l'idea che noi apriamo i campi di calcio e abbiamo tenuto ferme le scuole dà un segnale molto inquietante di un paese senza cultura, di un paese dell'ignoranza. Altrove in Francia o in Germania non hanno messo prima il calcio e poi la scuola. Credo che questo sia un'indicazione di un governo che non c'è. Ci sono il Ministro, il Presidente del Consiglio ma c'è un comitato tecnico scientifico che ha tenuto i bambini fermi a casa nell'ignoranza con la finzione dell'insegnamento a distanza, in vacanze sicuramente per qualche giorno anche divertenti per loro e che continua a non dare nessuna risposta come se non ci fossero nuove evidenze sulla realtà attuale di questo drammatico momento della nostra vita che è finito. Allora o prendiamo atto di questo e siamo tempestivi oppure diciamo facciamo restare Zagrillo, dall'altra parte c'è il comitato che ha voluto martella per le fake news, ci sono tutti quelli che possono essere magari bruciati a campo dei fiori, tutti quelli che hanno osato dire altro, ma se l'evidenza di una cosa è che non è un pericolo mortale ma è una condizione dalla quale si può uscire senza bisogno di terapia intensiva e lo dice uno che fa terapia intensiva, dove siamo? Dov'è il governo? Dov'è la verità di una politica che governa e non è governata? Qui c'è un problema di passività, noi siamo stati governati eppure anche in quel periodo, io l'ho detto per primo, ho discusso anche con l'amico Trizzino, ma ci sono state personalità che vanno da un altro studioso, illustre che si chiama Matteo Bassetti, a un altro che si chiama Tarro, a un'altra che si chiama la Gismondo, che avevano dato segnali di misure che non dovevano essere queste grottesche assunte qua il 20 aprile, abbiamo cominciato a metterci la maschera il 20 aprile, qui, il bavaglio, non la maschera. Ora in tutto questo evidentemente qualcuno ha deciso, che occorreva sentire l'ultimo, che diceva, guarda, meglio avendo il mal di testa, tagliarsi la testa, è una soluzione molto rapida, è il modo migliore di farlo passare, ma se ragioniamo occorre una sola cosa che io chiedo a viva voce agli amici della Lega, agli amici di Fratelli d'Italia, agli amici di Forza Italia, una commissione parlamentare d'inchiesta sopra i comitati tecnico-scientifici per andare a vedere il Parlamento con le forze parlamentari e la verità della democrazia, se non abbiamo subito magari qualche ricatto, qualche minaccia, non sono un dietrologo, ma qualcuno che aspetta il vaccino, lo abbiamo da sempre, e oggi il vaccino dovrebbe servire per una cosa che non c'è più? Per vaccinare persone che potrebbero essere contagiati di altro attraverso un vaccino sbagliato? Allora occorrerà che per una volta il Parlamento rialzi la testa e una commissione di tante commissioni inutili che sono state fatte? C'è stata fatta una grande commissione sulla P2 che ha continuato ad agire quando la Messiatura Ordinaria in Cassazione aveva presciolto quella associazione che è stata una pagina di costume italiano. Ora potremmo fare una buona commissione di parlamentari e non di medici sull'operato di quei medici e sulle falsità che hanno detto o sulle false verità, perché l'ultima, che è quella che mi ha colpito di più e che va nell'ordine di una campagna che ho cominciato a condurre da metà aprile in maniera molto intensiva attraverso raccolte di firme, appelli al Presidente della Repubblica e personalità. Ancora oggi è intervenuto Bernardo Arilevi ripetendo che c'è qualcosa del mondo che evidentemente non ha funzionato. Ma questo non vuol dire attenuare la prudenza, ma questo vuol dire non essere succubi di chi ti dice un giorno una cosa, nel suo segmento un altro dice un'altra cosa e in terapia intensiva un grande medico ti dice che il coronavirus è estinto. È un pazzo? Non è una materia che ci interessa? Non è questione che riguarda quello che dovremmo fare prima di tutto con le scuole, restituendo gli allievi e i docenti? La capacità di qualcuno che insegna la cosa che ci hanno insegnato per prima, la libertà di pensiero? La possibilità di dire che sono stato variamente condannato sui social perché ho osato avere un pensiero diverso. Fosse anche stato sbagliato era mio diritto averlo ed è diritto ascoltarlo ed è diritto portarlo in Parlamento perché si discuta se qui oggi non è all'ordine del giorno l'indicazione di Zangrillo. È matto? Ha sbagliato? È stata in terapia intensiva? Posso dirvi una cosa che è probatoria. Sono stato denunciato da più parti, dal comitato, dal patto trasversale per la scienza, dal dottor Burioni, da Bassetti che mi ha rifidato. Tra quelli che mi hanno rifidato c'è anche Zangrillo che un mese e mezzo fa ha detto perché parla Sgarbi? Aveva ragione. Io in realtà non parlavo come un esperto, parlavo come una persona che stanno in Parlamento e stanno nella società, osserva, guarda, cerca di capire e non può immaginare che uno guidi la sua automobile da solo con una mascherina, vada in una foresta da solo con una mascherina. È un'economia forzata di ladri e mafiosi per vendere inutili mascherine dove non servono. Quando il Corriere della Sera ha dichiarato, regalandola, una pagina meravigliosa di letteratura fantastica, che non serviva per ragioni sanitarie, non serviva sui luoghi del lavoro, non aveva nessuna funzione di protezione. E ha scritto così, potete trovarlo, era quello che veniva regalato al Corriere della Sera. I medici hanno tutti detto che quella serve per evitare di sputare quando uno fa un'operazione, ma non è protettiva di nulla. Eppure l'abbiamo portata anche facendo il bagno. Allora c'è qualcosa che non funziona. Quindi chiedo che una commissione parlamentare di inchiesta studi questi tre mesi di follia della democrazia. E anche per noi, perché se fosse vero e le persone avvedute, l'amico Dallosso l'ha fatto il primo giorno. Voi siete stati senza mascherina fino al 20 di aprile e il morbo era partito in gennaio. Siete stati imprudenti. Non mi pare che siamo morti tutti. Eppure io anche lì per primo avevo detto chiudiamo il Parlamento. Se il Parlamento è pieno di membri di ogni regione d'Italia, poteva esserci uno che poteva essere contagioso per l'altro. Però questo non è avvenuto. Improvvisamente abbiamo fatto questa ridicola sceneggiata di metterci un bavaglio o una museruola per non parlare, non per non essere appestati. Perché la peste non c'è e non c'è più se mai c'è stata. Allora io chiedo che venga messo l'ordine del giorno, detto, ripetuto, confermato in diverse interviste, quello che ha detto il dottor Zangrillo. Mi pare una chiave semplice, pulita, con il dottor Bassetti, anche lui molto ascoltato, che ne ha detto la stessa cosa. Quindi noi continuiamo a quanti mesi andremo avanti fino a settembre a fingere che ci sia dietro l'angolo la peste, a cercare terapie intensive dove non ci sono più. Certo che dovremmo essere prudenti, ma la prudenza non vuol dire stupidità, non vuol dire negare il rapporto fra un professore e un allievo in nome di una cosa che non c'è. Abbiamo accertato che il virus non ha in alcun modo toccato i bambini, però i bambini non potevano neanche fare una passeggiata nel parco, 200 metri, non 400. Ma dove siamo? Ma dov'è? E quando è stato riammesso in maggio la possibilità di andare in bicicletta, vuol dire che prima si aveva preso in giro. Perché è evidente che se io parto in bicicletta e vado a Frascati o vado a Gaeta, la distanza di un metro c'è, non vedo che mi contagi. Perché hanno proibito andare in bicicletta? Perché hanno proibito e multato chi passeggiava su una spiaggia? Perché hanno proibito di andare in un bosco o in campagna? Perché un governo può impormi questo? Devo accettare che il governo me lo ordini? Che un balordo mi multi per dimostrare che ha potere? Che mi fermi dicendo lei non può porti la mascolina anche quando va in bagno? E avranno anche perché non sono entrati nelle nostre attività sessuali? Qualcuno di voi che ha preso le distanze, ha portato dalla maschina e sarà andato a letto con sua moglie e con suo marito. Collega, le ricordo che stiamo parlando dell'avvio dell'anno scolastico. L'educazione sessuale della scuola. Collega, le chiedo di attenersi all'ordine del giorno. Grazie. Mi spieghi il nesso fra quello che noi dobbiamo insegnare per una buona sessualità ai giovani e queste regole. Dovremmo dirgli il letto a due piazze va bruciato. Ma detto questo, io intendevo parlare proprio del tema della scuola per una ragione fondamentale, che la scuola doveva essere, deve essere, il primo luogo in cui ritorna la democrazia. Noi abbiamo rinunciato, ci siamo riuniti qua in queste seneggiate di settimane di interventi più o meno lunari con paure, terrori, richiami alla resistenza, appelli, minacce alla Lombardia e però nessuno ha detto, e lo dovrà dire il Ministro, che la scuola è il punto di partenza dell'educazione non sessuale, anche quella civica, che vuol dire educare i giovani a usare il cervello, a leggere Giordano Bruno, a leggere Galileo, a non credere a una scienza che è fatta di figure che diventano santoni o stregoni. Noi abbiamo patito col comitato tecnico-scientifico un comitato di teste di stregoni, stregoni al posto di deputati. E siamo qua oggi a tentare di spiegare come dovrà essere la prova d'esame, ma mi chiedo anche quello, anche ammesso che essa abbia un significato in questa riduzione, chi saranno i bocciati? Quale sarà il criterio a cui dirò che uno, che potrebbe essere meno preparato, non lo sia stato perché l'abbiamo scioccato, inducendogli la paura che non poteva andare in cortile a giocare con il suo amico o suo fratello. Quindi dovrà essere anche quello promosso. Perché facciamo questi esami? Promeviamoli tutti. Hanno vissuto per colpa nostra una sospensione dei loro diritti di apprendimento, di conoscenza, di capacità di capire il mondo e noi gli esaminiamo su che cosa? Su quanto siamo stati scemi noi e perfino io che dico queste cose incapace di garantire loro la libertà di pensiero, la libertà di pensiero, di idee, di spirito, di docenza, questo gli abbiamo impedito. In nome di che cosa? Della pseudoscienza, del mago Otelma che si è incarnato nel Comitato Tecnico Scientifico. Quando ho visto quella sottosegretaria Zampa che ha detto che ha osato dire a Zangrillo sono messaggi sbagliati. Ma chi sei? Se sei sempre piegata al Comitato Tecnico Scientifico, Zangrillo improvvisamente non è più uno scienziato a cui tributare onore e ascoltarlo? No! Dobbiamo, ha detto cose che possono essere sbagliate. Perché? Perché non posso, devo portare la mascherina anche se vado a fare una scalata in montagna? Ma dove siamo? Quale sono queste imposizioni ridicole soltanto per favorire un mercato grottesco in cui molti si sono messi e anche lo Stato? Allora la normalità è tornata in molti paesi d'Europa e mi fa molta malicolia sentire l'Europa ci dà, l'Unione Europea ci concede. Che devono concedere? Se l'Europa c'è, noi siamo l'Europa. L'Europa dà a se stessa. Non può esistere un organismo che è astratto rispetto ai singoli paesi che lo costituiscono. C'è un difetto di funzionamento della logica. Tutti noi parliamo dell'Europa come altro da noi. Mentre siamo tutti europeisti, o molti sono europeisti, contemporaneamente la sentiamo come un corpo estraneo, utile o disutile, buono o cattivo. Ma quando l'Europa ha il suo giardino e il suo luogo di infinita bellezza dell'Italia, lo manifesta come cosa sua, a cui dà perché è cosa sua, non perché dà agli italiani. Anche qui c'è qualcosa che non funziona. Occorre la registrare le parole. O non siamo in Europa e siamo italiani e basta e la vediamo come una madre o una minaccia a seconda dei casi, o siamo noi lei e quando un padre dà un figlio non chiede indietro i danari. Non è un prestito, è dare a noi stessi. L'Europa siamo noi. Oppure diciamo tutti noi, sinistra e destra, sempre in televisione, l'altro giorno me ne ero accorto parlando con un collega, se ne parlava sempre in terza persona. L'Europa ha fatto, l'Europa farà, l'Unione Europea non c'era modo di correggere questo pregiudizio che è automatico in sinistra e in destra. L'Europa è in prima persona, non in terza. L'Europa dà a sé se dà all'Italia. E se ha una linea, quella linea che riguarda paesi tutti contagiati, non deve essere la linea italiana o la linea greca o la linea spagnola. Hanno aperto le scuole in Germania, aprono in Italia. Seguono almeno l'indicazione simbolica della Scani. Non mostriamo che la scuola è alla fine di tutto e non conta nulla. E ha bisogno di regalie o di una visione dall'alto paternalistica perché si dica ai giovani quello che gli toccherà, cioè niente, il regalo di una promozione. Credo che questa idea d'Europa meriti una riflessione nuova sul fatto che io è difficile che possa restituire qualcosa a me stesso. Se mi presto qualcosa, lo presto a me e lo tengo io. Non riesco a immaginare. E così dovremmo immaginare per tante cose, soprattutto quelle che riguardano i dolori essenziali, come quello dell'insegnamento, che l'Europa abbia una linea, che non ci sia un allievo in Francia e uno in Spagna che hanno misure diverse di trattamento e rapporti diversi con i docenti. Ma nell'università la figura del docente è come la figura, anch'essa pretermessa, del sacerdote della Chiesa. Non puoi fare la comunione per posta o al telefono. Come diceva Burioni, io so che Dio vuole che gli italiani preghino in casa. Ha preso anche il posto di Dio. Ha detto io so che Dio... ma che dobbiamo sapere? La comunione è un atto che ha una consacrazione per chi crede che è un rito straordinario di verità per cui il sangue è il vino e il pane è il corpo. Se non lo credo, non mi dichiaro cristiano. E se mi dichiaro cristiano, devo anche avere il senso del rito che un sacerdote fa con i suoi fedeli. È lo stesso rito che con il sapere, con la dottrina, con la scienza, con la matematica, con l'arte, fa il docente. Nuccio Ordine, illustre filosofo, è stato molto mite con le ali basse in questo periodo, ma sente con sofferenza che non sale dal Parlamento e dal Governo nessuna voce per l'Università che riprenda, libera, con il nuovo anno accademico, senza maschere, bavagli e vetti. Che sia il rapporto del docente con l'allievo, che vede in lui un riferimento, che non è un fatto che può essere sostituito da altro. Con l'invenzione che da settimane andiamo tutti per Skype e facciamo tutti i video, un mondo completamente ipnotizzato, con una psicologia paradossale di cui si apporta il filosofo a gambe. Normalmente le masse, l'abbiamo visto ieri, si riuniscono nelle piazze e hanno un pensiero comune che è legato alla continuità fisica, per cui tutti inneggiano un grande cantante, un politico e stanno insieme. Questa volta abbiamo avuto una massa fatta di individui separati. È la prima volta che capita di una storia. Ognuno stava a casa sua, ma nessuno usava la sua testa. Temevano di mettere fuori il naso dalla finestra. A me è accaduto che mi abbiano mandato il video di tre persone di una famiglia in Sardegna su un'isola, su una spiaggia e diceva, ma guarda, devi dirgli che questo è un crimine. Come è un crimine? Sono gli stessi che stavano in casa, non possono stare all'aperto. Qual era il crimine di stare in tre sulla spiaggia? Ebbene, questa deformazione ha creato una nuova massa fatta di individui totalmente ipnotizzati, una psicosi collettiva che è diventata persuasione. Dobbiamo uscirne, dobbiamo essere i primi a dire che queste malcherine sono una benzogna e i primi a dire che università e scuola devono riaprire nella loro normalità, secondo il protocollo del professor Alberto Zangrillo, che ha vissuto delle terapie intensive e ha detto a me, stai attento, non parlare tu, che non hai titolo della competenza. Allora me l'ha detto, oggi dice quello che io mi aspettavo. Vorrei che questa data fosse segnata nel nostro calendario per le ragioni di dibatterne, di partire di qua e di aprire una commissione parlamentare richiesta su cosa sia stata la falsa scienza, altro che il comitato voluto la sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. La invito a concludere. Sono arrivato alla fine. Quando Martella l'ha voluto, io ho cercato di dirgli che erano quattro o cinque personaggi messi insieme senza nessun titolo per inventare le fake news. Non ci sono fake news, ci sono libertà di pensiero diverso per chi ragiona sulla realtà com'è dovere di ogni politico che non deve essere persuaso e umiliato da nessuna falsa scienza. Non vi sono altri scritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.